Conto alla rovescia per la tredicesima edizione di Lilt Running, che torna martedì 25 aprile alla colonia fluviale di Morbegno. Data storica per la corsa per sole donne, promossa dal comitato delle volontarie della Lilt di Sondrio. Il ritrovo è previsto dalle 8.30, alle 10 la chiusura delle iscrizioni e alle 10.30 la partenza. Il percorso costeggia l'Adda e il Parco della Bosca. Migliaia, le donne che hanno sostenuto l'evento negli anni acquistando la maglietta e indossandola come testimonia d'eccezione, diventando divulgatrici della prevenzione oncologica primaria e secondaria per sostenere Lilt Sondrio nelle sue attività ambulatoriali, con oltre 3.000 accessi l'anno per visite di controllo e mammografie. I progressi della ricerca aumentano l'aspettativa di qualità della vita e di guarigione dei malati oncologici, ma la prevenzione rimane l'arma più efficace per limitarne i danni e aumentare la possibilità di guarigione. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto al finanziamento di un nuovo mammografo con tomosintesi. Al termine della corsa sarà assegnato un premio simbolico per le prime tre classificate nel percorso a 7 km. Seguirà il pranzo aperto a tutti.